Ok, benvenuti all'ultima sessione pomeridiana del corso Life Natura e Biodiversità organizzato da AISA, Associazione Italiana Scienze Ambientali, della sezione Studenti Lecce. Come ultima sessione abbiamo un cambio di relatore, abbiamo qui con noi il dottor Leonardo Beccarisi che ci illustrerà come realizzare dei progetti Life da parte di un collaboratore, di un esperto esterno scientifico. Lui ha già lavorato in progetti Life e quindi potrà aiutarci a comprendere meglio come poter scrivere un progetto. Vorrei ringraziare i partner che hanno fatto sì che questo nostro corso venisse realizzato. Innanzitutto l'Arti, che è l'assessorato regionale che ci ha permesso e ci ha finanziato questo corso. Il partner logistico quali l'Officine Cantelmo e anche i partner quali il Dipartimento dell'Università del Salento, il Disteba, il Museo del Mare della città di Gallipoli, il Parco di Torre Guaceto che ha permesso anche l'intervento del dottor Beccarisi, la Marina Protetta di Porto Cesario e credo di aver ringraziato tutti i nostri partner. Quindi passerei la parola al dottor Beccarisi per iniziare la nostra ultima sessione. Grazie Marta, grazie a tutti voi che state qui e buonasera, prima di ogni cosa. Allora, quindi il titolo di questa sessione è competenze tecnico-scientifiche per la progettazione per la progettazione LIFE. Perché questo titolo? Perché la progettazione europea è un lavoro complesso, è un lavoro complesso che richiede il contributo di diverse competenze, quindi di diverse professionalità. Queste competenze sono quelle tecnico-scientifiche, quelle linguistiche, economiche, giuridiche, relazionali. Poiché il LIFE è uno strumento dell'Unione Europea per attuare la politica economica, allora è chiaro che per quanto riguarda in particolare il LIFE Natura e Biodiversità, che è l'argomento di questo corso, allora è chiaro che nelle competenze tecnico-scientifiche tra i professionisti che prima vengono inquadrati, che per primi vengono inquadrati, sono gli ecologi. Ecologi qua visti in senso ampio del termine, poiché l'ecologo è una figura, diciamo, eterogenea, sia dal punto di vista della formazione universitaria, no? Cioè escono ecologi, possono uscire ecologi, dei biologi, tecnici ambientali, naturalisti, studenti di scienze forestali, anche agronomi, ed è una professione eterogenea anche dal punto di vista delle modalità con cui viene condotta la professione stessa. Ma diciamo, ci addentreremo in maniera molto sintetica nell'argomento. È, diciamo, una figura eterogenea che ha in comune, che cosa? Ha in comune l'oggetto di studio, che è quello, l'oggetto di studio e di applicazione, che sono gli ecosistemi. Ecosistemi, quindi, determinati dalle relazioni tra organismi e eventi e tra questi è l'ambiente. Quindi, questa relazione è divisa in tre parti. Una prima parte è dedicata al ruolo dell'ecologo all'interno della progettazione. Qui, insomma, siete molti giovani, alcuni studenti in cerca di lavoro, quindi mi preme, insomma, trasmettervi delle informazioni legate proprio alla problematica, legata a come l'ecologo si relaziona, viene introdotto all'interno di questi lavori di progettazione del life, natura e biodiversità. Poi la seconda parte è dedicata ad alcune tecniche, diciamo, tecniche di base fondamentali dell'ecologo e l'ultima parte prenderemo in considerazione un caso di life che si è chiuso nel 2008 e che è stato portato avanti all'interno della riserva di Torre Guaceto, che è l'ente per cui lavoro e poi affronteremo alcuni dettagli. E quindi, cominciamo dalla prima parte. Magari facciamo una pausa tra la seconda e la terza parte, più o meno. Allora, la progettazione europea, sostanzialmente abbiamo due tipi di fondi, ok? Abbiamo dei fondi cosiddetti indiretti o strutturali, che sono mediati a livello regionale, in Italia sono mediati a livello regionale attraverso i POR, e dei fondi cosiddetti diretti che vengono stanziati direttamente dall'Unione Europea attraverso dei bandi. Perché dico questo? Dico questo perché la partecipazione, anzi il lavoro di progettazione per un tipo di fondo e per l'altro è molto differente e richiede il coinvolgimento diverso della figura dell'ecologo. In linea di principio, in linea di massima, i fondi strutturali, cioè i fondi indiretti, sono relativamente semplici, nel senso, cioè i bandi legati ai fondi strutturali sono relativamente semplici, sia dal punto di vista burocratico che progettuale, e non necessitano di partenariati transnazionali. Invece, per quanto riguarda i fondi diretti, appunto, come vi ho detto, possono essere intercettati attraverso bando emanato direttamente dall'Unione Europea. In questo caso, sicuramente la partecipazione è più impegnativa, più difficile, per una serie di ragioni, sia perché sono più complessi i bandi, e poi perché richiedono un partenariato transnazionale, e poi perché richiedono un valore aggiunto, cioè i progetti devono avere un valore aggiunto, devono avere una componente di innovazione. Ai fondi indiretti appartiene il progetto, il programma LIFE, e quindi LIFE, natura e biodiversità, che è un asse del LIFE. Tenevo in presente questa distinzione, passiamo rapidamente in rassegna che cosa vuol dire ecologo dal punto di vista professionale. Allora, secondo Sirli, l'ecologo può essere diviso in alcune categorie. Innanzitutto l'ecologo che si occupa di ricerca, e l'ecologo che si occupa di comunicazione e didattica. Per quanto riguarda la comunicazione e didattica, lo cito giusto perché è una novità, in questi giorni, nella notizia, che diventerà una materia obbligatoria l'educazione ambientale all'interno delle scuole, dalle scuole elementari sino alle scuole superiori. Quindi, insomma, questo ci lascia ben sperare per questo settore. Per quanto riguarda la ricerca, Sirli distingue, diciamo, tre ambiti differenti, che sono la ricerca svolta nel mondo accademico, il conservazionismo che si esplica, si applica all'interno dei parchi, delle aree protette, e l'ecologica consulting, che è quello, praticamente, del libero professionista, che svolge attività di consulenza, attività di consulenza, come, per esempio, valutazioni di incidenza, valutazioni di impatto, o viene chiamato, diciamo, in quei progetti in cui è prevista una certa interferenza tra l'attività, la realizzazione di un'opera e, appunto, l'incidenza sul sistema naturale. Per quanto riguarda la progettazione LIFE, ovviamente, tutte queste categorie di ecologi possono, in qualche maniera, contribuire. Però, sino a questo momento, e ancora oggi è così, i bandi LIFE sono generalmente appannaggio degli istituti di ricerca. Cioè, gli istituti di ricerca, diciamo, hanno un ruolo dominante, sia perché sono delle istituzioni, e quindi come tali contribuiscono, diciamo, cioè producono i progetti, come leader di progetto, anche come partner, oppure rientrano nella fase di progettazione vera e propria. Ecco, la fase di progettazione dei LIFE, natura e biodiversità, in moltissimi casi, è svolta proprio dagli istituti di ricerca. E i liberi professionisti, diciamo, giocano un ruolo, come dire, hanno uno svantaggio. Ecco, hanno uno svantaggio. Nel senso che hanno difficoltà, proprio per le ragioni di difficoltà del bando che abbiamo visto prima, e per la potenza, per la potenza di fuoco, come sta scritto rivirgolettato, per la potenza di fuoco degli istituti di ricerca, tendono ad avere un ruolo marginale. Il fatto che sia così non vuol dire che debba necessariamente essere così. E possiamo, in qualche maniera, esplorare quelle che sono le cause, diciamo, di questo svantaggio del libero professionista. Qui sono suggeriti due cause. Una è la carenza formativa per l'autoimprenditorialità. E l'altra è spesso una confusione semantica tra i concetti di ecologia e di ambientalismo che probabilmente, di cui probabilmente i liberi professionisti soffrono. Vediamo in dettaglio questi due aspetti. Allora, per quanto riguarda la carenza formativa, per quanto riguarda la carenza formativa nell'autoimprenditorialità, faccio ricorso ad uno studio dell'Empab. L'Empab è l'ente di previdenza sociale dell'ordine dei biologi. E praticamente include tutti i biologi che svolgono l'attività di libero professionista. E questo, quindi l'Empab un paio di anni fa ha fatto un sondaggio con l'intento di capire quello che è l'ambito professionale, quelli che sono gli ambiti professionali in cui si muovono i biologi professionisti, liberi professionisti. Allora, quello che questo studio mette in evidenza è innanzitutto una marcata polarità, così la chiama l'autore, una marcata polarità verso due ambiti professionali che sono alimenti e nutrizione e la biologia e la biologia clinica. Mentre tutti gli altri, compreso anche quello dell'ambiente, che è questo qua, ha un ruolo in qualche maniera diciamo secondario. L'attuale polarizzazione dell'attività lavorativa del biologo verso gli ambiti alimenti e nutrizione e quello biomedico sembra essere in contrasto con la notevole varietà di competenze che il biologo può esprimere. cioè la questione non è la preparazione dal punto di vista scientifico del biologo ma la questione è un'altra. È ipotizzabile dedurre che il biologo e quindi anche e soprattutto quello che si occupa di ambiente a fronte di una solida cultura scientifico professionale abbia importanti carenze nel costruire quell'auto imprenditorialità determinante per il successo professionale. quindi la questione è il biologo alla preparazione scientifica potenzialmente per affrontare per affrontare le questioni una carriera professionale legata all'ambiente però in qualche maniera gli mancano gli strumenti per inserirsi nel mercato del lavoro. E questo quindi abbiamo spiegato uno diciamo dei punti di svantaggio del libero professionista. Il secondo punto di svantaggio è una promiscuità tra il concetto di ecologia e il concetto di ambientalista. Allora in qualche maniera per semplificare il discorso l'ecologo e l'ambientalista condividono ovviamente degli aspetti etici fondamentali e questa condivisione è anche marcata dal codice deontologico degli albi professionali in particolare qua riporto quello del biologo nell'articolo 23 del codice deontologico quello che è uscito di recente dice che nel caso in cui le attività professionali del biologo abbiano ad oggetto a qualunque titolo l'ambiente naturale la flora e la fauna egli è tenuto ad assicurare per quanto possibile il benessere e il rispetto dell'ambiente stesso astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi il problema è a questo punto capire quale benessere quindi l'ecologo e l'ambientalista condividono e condividono degli aspetti etici fondamentali degli aspetti etici fondamentali la diagnosi quindi possiamo in qualche maniera mettere in relazione l'ecologo al medico dell'ambiente possiamo chiamarlo medico dell'ambiente la diagnosi del medico si basa sui sintomi del paziente e sui casinoti gli ecosistemi sono sistemi dinamici come l'uomo ma diversamente dall'uomo non sono sistemi unitari una cosa da tenere in considerazione che in seguito ad una perturbazione un ecosistema cambia la propria configurazione infatti nei sistemi ecologici la regola non è la distruzione ma è la sostituzione la sostituzione quindi ciò che cambia è il rapporto tra specie le condizioni le condizioni ambientali ma normalmente anche nei casi di distruzione diciamo così tra virgolette di distruzione più 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 forte normalmente ad un ecosistema se ne sostituisce un altro l'ecosistema cambia di forma comprendere questo è un fatto importante è un fatto importante perché prendiamo questo esempio abbiamo un bosco a un certo punto questo bosco viene raso al suolo viene distrutto e il bosco viene sostituito da una comunità da una comunità erbacea allora se facciamo diciamo se ascoltiamo la nostra la nostra diciamo la nostra indole ambientalista potremmo un po' opporci no? a questo diciamo a questa trasformazione potremmo un po' opporci a questa trasformazione però che cosa possiamo dire se il bosco se ci troviamo per esempio in questo caso cioè il bosco è un bosco di eucalipti quindi è un bosco di impianto un bosco artificiale e che cosa possiamo dire se l'intenzione con cui è stato effettuato quel disboscamento è quella di sostituire il bosco con una vegetazione erbacea magari la vegetazione dei pascoli magari la vegetazione dei pascoli che è individuata come habitat prioritario dalla direttiva habitat 92-43 della CEA evidentemente in certe valutazioni quello che bisogna tenere presente non sono soltanto i valori intrinseci del bene ambientale quale per esempio il valore dell'essere vivente in quanto tale gli alberi per esempio una possibile obiezione all'intervento dell'esempio precedente potrebbe essere gli alberi sono degli organismi viventi che vanno rispettati indipendentemente da quale sia l'obiettivo dell'azione con cui è effettuato quel disboscamento oppure ci si basa su valori legati al sistema non bisogna distruggere i boschi oppure ci si può basare su un valore puramente estetico la natura è bella così com'è l'uomo non deve interferire con i processi naturali oppure può emergere diciamo una sensazione di scetticismo nei confronti di questa azione che ha disboscato e non ha considerato per esempio soluzioni alternative quindi non ci si può basare soltanto su valori intrinseci che sono sostanzialmente l'anima dell'essere ambientalista ma occorre affidarsi a dei criteri a dei criteri in qualche maniera oggettivi ecco quali sono questi criteri oggettivi e qui ci agganciamo quindi con la direttiva habitat e ci addentriamo nel cuore diciamo della nostra della nostra argomentazione questi criteri oggettivi sono habitat che vengono individuati come habitat da conservare habitat da promuovere ad una determinata scala geografica e la direttiva habitat fa esattamente quello la direttiva habitat 92-43 della CEA ha l'obiettivo di istituire di istituire una rete di aree protette all'interno del territorio dell'Unione Europea che si chiama Rete Natura 2000 che è costituita da SIC ZPS e queste aree protette sono individuate sulla base di che cosa? sulla base di habitat di particolari tipi di habitat e particolari tipi di specie che si chiamano entreremo diciamo nell'argomento che sono habitat e specie di interesse comunitario e prioritarie che diventano in una valutazione ecologica diventano i criteri i criteri oggettivi per la valutazione di un determinato intervento ma poi ce ne sono altri come per esempio i piani paesaggistici per quanto riguarda strettamente il territorio del territorio della Puglia si chiama PPTR il nuovo PPTR piano paesaggistico territoriale regionale oppure ci sono quelle specie che ricadono all'interno di censimenti su vasta scala ma anche su scala su scala su scala su scala su scala su scala regionali e sono quelle specie ritenute a rischio di estinzione oppure sono le specie esotiche che diversamente dalle specie ritenute a rischio di estinzione nei confronti delle quali bisogna prestare un'attenzione particolare dal punto di vista della conservazione o favorire la ripresa di questi popolamenti le specie esotiche invece sono individuate come delle specie da contenere dal punto di vista dell'estensione geografica e dal punto di vista della consistenza dei popolamenti locali oppure un altro concetto molto forte è quello della biodiversità sul quale insomma bisognerebbe che andrebbe un pochettino sviluppato comunque ecco l'informazione che voglio trasmettere è questa qui in una diagnosi virgolettata in una diagnosi ecologica occorre avere dei punti di riferimento dei criteri per valutare se un'azione se un intervento è da ritenere positivo o non positivo ecco e tra questi e la direttiva habitat si inserisce esattamente in questo quadro cioè fornisce all'ecologo gli strumenti per fare delle valutazioni e quindi abbiamo parlato di habitat di interesse comunitario e habitat prioritari adesso ne diamo una definizione una definizione prendendo esattamente il testo della direttiva habitat sono definiti habitat di interesse comunitario gli habitat che nel territorio dell'Unione Europea rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale che hanno un'area che possono avere un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta oppure costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle sei regioni biogeografiche in cui diciamo che costituiscono diciamo in cui l'Unione Europea i paesi appartenenti all'Unione Europea sono suddivisi i tipi di habitat della direttiva habitat figurano nell'allegato 1 della stessa direttiva tra questi habitat di interesse comunitario abbiamo degli habitat particolari che si chiamano habitat prioritari per il quale l'Unione Europea individua l'urgenza l'estrema necessità di intervenire dal punto di vista della loro conservazione dalla parte del progettista avere chiara una differenza tra habitat prioritari e habitat di interesse comunitario ha il suo peso perché progetti che includono specie prioritarie o habitat prioritari diciamo hanno delle agevolazioni dal punto di vista del cofinanziamento ma entreremo diciamo in questi aspetti oltre agli habitat di interesse comunitario e habitat prioritari la direttiva individua anche le specie di interesse comunitario e prioritarie leggo le specie quindi sono specie di interesse comunitario quelle specie che nel territorio dell'Unione Europea sono in pericolo di estinzione sono vulnerabili cioè il il paesaggio il passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro oppure possono essere delle specie rare oppure possono essere delle specie endemiche cioè che hanno un areale di distribuzione limitato ad una piccola ristretta area geografica tra le specie di interesse comunitario alcune appaiono sono considerate specie prioritarie e un altro concetto presentato dalla direttiva è quello di habitat di specie che è definito habitat di specie non è riportata la definizione qua è definito habitat di specie diciamo quel compone concorrono a costituire l'habitat delle specie e quegli habitat che possono anche essere degli habitat diciamo antropizzati questo da tenere in considerazione quegli habitat all'interno della quale una specie di direttiva diciamo svolge il proprio ciclo il proprio ciclo vitale dall'alimentazione quindi come aree trofiche oppure come aree di nidificazione di riproduzione passando passando continuando diciamo sulla questione dei criteri nella diagnosi ecologica che ci introduce poi negli aspetti della progettazione prendiamo in considerazione il concetto di rarità della specie il concetto di rarità della specie è un concetto diciamo con più significati tanto è vero che Rabinovitz ha individuato e descrive otto tipi di rarità e la rarità dipende sostanzialmente da tre variabili uno è la distribuzione geografica della specie una è la specificità di habitat e l'altro è la dimensione delle popolazioni locali quindi quando parliamo di rarità di una specie in realtà stiamo parlando di tante cose e normalmente bisognerebbe dare descrivere l'accezione l'accezione di rarità attribuita ad una ad una ad una particolare ad una particolare specie perché ci interessa il concetto di rarità perché a questo concetto è strettamente legato quello di rischio di estinzione esistono ovviamente sono cose che molti di voi sanno se non tutti di voi conoscono esistono dei database delle liste degli elenchi che raccolgono informazioni riguardanti specie a rischio di estinzione queste diciamo il più importante il più importante istituto che che raccoglie le informazioni e trasferisce le quelle trasferisce queste informazioni è la IUCN che è un ente internazionale appunto specificamente dedicato a questo diciamo a questo tipo di informazioni che gestisce un vero e proprio database che è consultabile online e raccoglie tutte quelle specie che sono ritenute a rischio di estinzione su scala globale il rischio di estinzione delle specie diciamo non è un carattere sì no non è un carattere booleano ma in qualche modo una specie appartiene ad una certa categoria sulla base di una valutazione la IUCN fornisce i criteri con cui effettuare queste valutazioni e le specie possono essere questo praticamente è lo schema lo schema di classificazioni delle specie a rischio di estinzione possono essere ritenute estinte oppure semplicemente estinte in natura oppure criticamente minacciate minacciate vulnerabili insomma esiste una terminologia un set di concetti è una terminologia che è attribuita alle specie a rischio di estinzione oltre al database e all'elenco di queste specie gestito dalla IUCN che ha diciamo una valenza planetaria vengono redatti da diversi istituti di ricerca ma quasi sempre seguendo anzi sempre seguendo quelle che sono le indicazioni criteri le indicazioni fornite fornite dalla IUCN vengono redatte delle liste che si chiamano liste rosse cioè liste delle specie a rischio di estinzione su scale anche ridotte per esempio su scala nazionale oppure su scala europea come ad esempio questa lista rossa europea delle specie delle piante vascolari che è stata pubblicata non molto tempo fa oppure quest'altra che risale dal 2005 edita da Scoppolo e Spampinato che riguarda l'atlante delle specie a rischio di estinzione per quanto riguarda le le piante superiori quindi se da una parte abbiamo le specie a rischio di estinzione verso le quali l'Unione Europea pone come vedremo pone un'attenzione particolare dal punto di vista della conservazione e quindi si inserisce fortemente nel discorso di progettazione dei life natura e biodiversità dall'altra parte abbiamo un'altra categoria di specie che sono le specie esotiche le specie all'octone anche queste di particolare attenzione da parte dell'Unione Europea come vedremo tra breve diciamo specie all'octone specie esotiche possono anche qui abbiamo una serie di concetti di termini da tirare in ballo queste specie sostanze che cosa sono le specie esotiche sono quelle specie che si trovano al di fuori del loro naturale areale di distribuzione il fatto di trovarsi al di fuori del loro areale di distribuzione e quindi inserite all'interno di ecosistemi a loro estranei spesso e volentieri diciamo interferiscono con la struttura di queste specie interferiscono con la struttura di questi nuovi ecosistemi in cui sono di questi ecosistemi nella struttura o nei processi quindi negli aspetti funzionali abbiamo delle specie casuali che diciamo si trovano appunto per definizione al di fuori dell'oreale di distribuzione ma non dimostrano una particolare virulenza tra virgolette quindi una capacità di propagarsi spontaneamente oppure abbiamo le specie naturalizzate che sono quelle specie all'octono che formano invece dei popolamenti stabili oppure abbiamo le specie invasive sono una particolare sottocategoria delle specie naturalizzate sono particolarmente virulente e in grado di diffondersi molto velocemente anche in questo caso diciamo a supporto dell'analisi ecologica quindi intervengono a supporto dell'attività svolta dall'ecologo intervengono alcuni strumenti quindi queste liste in particolare le liste delle specie esotiche è stata elaborata una lista delle specie esotiche a scala nazionale per l'Italia per quanto riguarda le specie della flora vascolare italiana con indicazioni di presenza e di tipo di tipologia cioè specie casuale specie naturalizzata specie invasiva per quindi presenza e tipo per ciascuna regione e quindi queste liste rappresentano uno strumento importante per chi diciamo opera per l'ecologo che opera nel settore di cui stiamo parlando avrei bisogno di bere un attimo allora ecco gli argomenti che abbiamo adesso un po' rapidamente presentato sono introdotti in quella che è la strategia dell'Unione Europea per la biodiversità sino al 2020 in pratica definisce quella che la strategia attuata e gli obiettivi dell'Unione Europea per quanto riguarda la conservazione e la la conservazione della biodiversità all'interno e non solo dei paesi dell'Unione Europea perché non solo perché l'obiettivo principale dell'Unione Europea per il 2020 è leggo letteralmente porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'Unione Europea entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile intensificando al tempo stesso il contributo dell'Unione Europea per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale questo è l'obiettivo principale dell'Unione Europea per quanto riguarda la gestione della biodiversità all'interno dei paesi dell'Unione Europea e poi abbiamo sei obiettivi sono sei obiettivi e qui sono presentati soltanto quattro il primo obiettivo è quello di dare piena attuazione alle direttive habitat e uccelli il secondo obiettivo è ripristinare e mantenere gli ecosistemi e i loro relativi servizi un altro obiettivo è combattere le specie esotiche invasive e un altro obiettivo è contribuire ad evitare la perdita di biodiversità a livello mondiale d'accordo allora vedremo vediamo in questo momento che la prioriteria del programma Life in particolare dell'asse natura e biodiversità è avere un collegamento con gli obiettivi delle direttive habitat e uccelli o le biodiversi strategi del 2020 che abbiamo appena visto quindi è importante tenere in considerazione queste cose perché ci introduce chiaramente in quello che è l'obiettivo della della progettazione Life Natura e Biodiversità ma prima di passare a questo un ultimo un ultimo aspetto che è legato alla rete Natura 2000 La rete Natura 2000 è costituita da una serie di aree protette che prendono il nome di siti di importanza comunitaria che sono diciamo attraverso un passaggio burocratico successivamente convertite in zone di protezione speciale e molti SIC hanno già subito questa trasformazione e le zone speciali di conservazione i siti di importanza comunitaria sono individuati sulla base della presenza di habitat e specie della direttiva le zone speciali di conservazione invece sono sostanzialmente un'emanazione della direttiva uccelli e sono delle aree individuate sulla base della presenza della fauna e in particolare della fauna migratrice e quindi entriamo nella seconda parte della nostra discussione che si chiama l'ecologo in azione quindi una volta capiti diciamo appresi questi concetti questi concetti fondamentali possiamo individuare quello che è l'ambito ecco il il focus di un progetto life natura e biodiversità e ci viene dato ovviamente dalla stessa documentazione accessori annessa a questi bandi quindi rileggo quello che ho già letto in precedenza obiettivi quindi sono possono partecipare possono partecipare alla programmazione life quei progetti che direttamente collegati alle direttive habitat e uccelli o direttamente collegati a quella che è la strategia europea per il 2020 progetti diciamo tipici sono l'implementazione dei siti l'implementazione di aspetti gestionati gestionali legati ai siti natura 2000 e quindi ai SIC e alle ZAPS oppure e quindi mentre le azioni tipiche azioni tipiche sono azioni che diciamo hanno l'obiettivo di conservare oppure di conservare gli habitat e le specie o le specie e di oppure di ripristinare ripristinare habitat diciamo disturbati che hanno subito un danno e la direttiva habitat a questo punto ritorniamo al discorso dei criteri è la stessa direttiva habitat che ci dà un'indicazione su come valutare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di direttiva cos'è lo stato di conservazione secondo la direttiva habitat è l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale la sua struttura e le sue funzioni nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio dell'Unione Europea lo stato di conservazione può essere anzi viene ritenuto viene considerato soddisfacente secondo tre criteri l'area di ripartizione naturale e la superficie restano stabili o tendono ad espandersi la struttura o le funzioni specifiche dell'habitat necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono o possono continuare ad esistere in futuro oppure lo stato di conservazione delle specie tipiche dell'habitat è soddisfacente esiste diciamo una definizione di stato di conservazione soddisfacente sia per gli habitat che per le specie allora è chiaro che parlando di progettazione di progettazione life natura e biodiversità quindi gli oggetti su cui ci dobbiamo soffermare sono sostanzialmente i i SIC le ZPS sono sostanzialmente gli habitat della direttiva o le specie individuate dalla direttiva o dalla direttiva habitat o dalla direttiva uccelli quindi l'ecologo che interviene nella fase di progettazione ovviamente deve avere ben chiaro diciamo questi aspetti esistono 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 dei esistono dei manuali che quindi dei veri e propri strumenti a disposizione dell'ecologo quindi esistono dei manuali che consentono all'ecologo di discriminare quindi di classifica di individuare per meglio dire di individuare gli habitat esiste un manuale redatto in lingua in lingua inglese che è l'interpretation manual of European Union Habitats che sostanzialmente raccoglie raccoglie in schede la definizione la definizione formale di ciascun habitat di interesse comunitario e prioritario questa è diciamo l'illustrazione su come si compone la scheda che definisce quest'habitat abbiamo quindi il nome e un codice identificativo abbiamo una definizione una descrizione generale dell'habitat abbiamo un elenco di specie sia animali che di piante indicatrici dell'habitat che possono o non possono essere possono anche non essere specie specie di direttiva quindi inseriti negli allegati 2 e 4 della direttiva habitat e poi diciamo altre indicazioni utili a disposizione dell'ecologo per fare l'interpretazione e l'individuazione oltre al manuale europeo esiste anche un manuale italiano che è stato redatto da qualche anno da enti di ricerca degli enti di ricerca nazionali e si chiama manuale italiano di interpretazione degli habitat della direttiva 92-43-C e che diciamo è uno strumento consultabile liberamente consultabile online e qui abbiamo elencati tutti gli habitat della direttiva presenti sul territorio sul territorio nazionale non soltanto elencati e distinti per categoria ma descritti e la descrizione è molto più estesa e compiuta di quanto non faccio il manuale europeo anche qui diciamo ritornano ovviamente titoli e codice Natura 2000 il nome in inglese i collegamenti rispetto ad altri sistemi di classificazione come per esempio il sistema di classificazione Corinbio Topso quello EUNIS che sono altri sistemi di classificazione la regione biogeografica di appartenenza la descrizione che grossomodo è quella riportata dal manuale europeo e invece la frase diagnostica diciamo che riporta in maniera più estesa la descrizione dell'habitat così come appare sul territorio nazionale e poi un elenco di specie che chiama che il manuale chiama combinazione fisionomica di riferimento e il riferimento sintassonomico il riferimento sintassonomico richiama quello che è il sistema di classificazione della vegetazione secondo i criteri della fitosociologia e poi altre indicazioni come le dinamiche e i contatti con altri tipi di habitat la presenza di specie eventuale presenza di specie all'octona e all'octone la distribuzione la distribuzione in Italia note descrittive e riferimenti bibliografici quindi in linea di massima l'ecologo che interviene nella progettazione dell'AIF in qualche maniera deve essere in grado di effettuare il riconoscimento degli habitat essere in grado diciamo di trattare con questi habitat e con queste specie e può sembrare diciamo un lavoro diciamo relativamente facile ma spesso diciamo è un lavoro che porta con sé delle difficoltà e questo succede ad esempio nei casi in cui ci troviamo di fronte a forti gradienti ambientali in cui singoli habitat costituiscono diciamo si diciamo costituiscono una serie che si distribuisce su gradienti ambientali che possono occupare una lunghezza uno spazio anche relativamente breve ad esempio se ci troviamo in prossimità di una ci troviamo in un sistema litorale di tipo sabbioso si susseguono diciamo su una scala spaziale molto fine una serie di habitat tutti habitat di interesse comunitario l'habitat più vicino al mare quello riportato in verde costituisce un tipo di habitat di interesse comunitario che prende il nome di vegetazione delle linee di deposito marine quindi subito seguito nell'entroterra da un altro habitat che è quello delle dune mobili embrionali in cui dominano delle specie vegetali delle graminacee perenni come l'agropiron pungens lo sporobulus pungi agropiron iunceum lo sporobulus pungens subito seguito all'interno da un altro tipo di habitat della direttiva che è quello delle dune a ginepri che addirittura è un habitat prioritario quindi l'ecologo coinvolto nella progettazione deve in qualche maniera avere dimestichezza con questi concetti con questi strumenti con queste tecniche per per l'individuazione per l'individuazione degli habitat nel frattempo c'è qualche domanda che volete pormi cioè prego su questo qua ah ecco ok io ho visto le foto che avete fatto non ho avuto diciamo la possibilità di seguire il le fasi precedenti di questo di questo corso prego forse forse conviene ripetere la domanda per chi ci segue nello streaming no no ma non era una domanda era un'osservazione quindi quindi non ho avuto la possibilità di seguire le fasi precedenti di questo di questo costo però ho visto le foto che avete pubblicato su facebook sulle cose quindi mi è sembrato di vedere dei post it delle mappe dell'informazione quindi mi sembra che avete già fatto uso di tecniche legate al problem solving sul quale a questo punto posso pensare di andare avanti anche in maniera piuttosto rapida allora avere a che fare con sistemi naturali vuol dire avere a che fare con qualcosa di complesso qualcosa di complesso perché il numero di oggetti possono essere oggetti biologici ma anche oggetti non biologici diciamo di natura che comunque appartengono all'ambiente quindi il numero può essere anche molto elevato e le modalità di interazioni possono essere diciamo molto molto varie quindi i sistemi ecologici sono per loro definizione dei sistemi complessi e districarsi diciamo in questi sistemi vuol dire avere sicuramente una conoscenza pratica e teorica adeguata ma vuol dire avere anche degli strumenti delle tecniche che in qualche maniera possono facilitare la lettura di questa complessità la semplificazione diciamo che possono aiutare a semplificare questa complessità di strutture e di funzione a cui si associa poi un'altra complessità che è quella di dover adeguare un progetto un piano a quelli che sono i requisiti del progetto LIFE quindi per in qualche maniera avere un controllo di questa complessità dobbiamo ripeto dobbiamo far ricorso a delle tecniche e queste tecniche diciamo appartengono ad un ad un campo applicativo che ha un suo diciamo di tipo generale di tipo generale che è quello del problem solving cioè la risoluzione di problemi in particolare la risoluzione di problemi complessi che sono legati a sistemi complessi e a progettazioni complicate che cos'è quindi quali sono le regole generali per utilizzare una tecnica di problem solving ce ne sono diverse alcune semplici altre più difficili da utilizzare qual è comunque la regola fondamentale la regola fondamentale quando ci addentriamo diciamo in un negli aspetti legati al problem solving sono avere sempre un piano avere sempre un punto un punto dove si vuole arrivare perché si sta ragionando si sta ragionando per arrivare dove quindi un obiettivo e una modalità con cui arrivare a questo obiettivo qualora il problema risultasse risultasse particolarmente difficile allora si può pensare di riformularlo perché la riformulazione di un problema diciamo che per noi o per il gruppo di lavoro a cui noi apparteniamo può essere particolarmente difficile probabilmente perché l'abbiamo impostato male l'abbiamo formulato male l'abbiamo definito male e poi un'altra tecnica fondamentale è quella quando abbiamo a che fare con un problema complicato e di scomporlo per quanto possibile in sottoproblemi oppure semplicemente il problema è talmente vasto il problema è talmente vasto che non riusciamo ad avere un controllo materialmente un controllo allora in questo caso dobbiamo ridurre diciamo le nostre ambizioni e cercare di concentrarci solo una parte diciamo di questo problema molto esteso oppure può aiutare molto l'uso di analogie quindi di prendere come riferimento casi analoghi al problema che stiamo affrontando oppure possiamo sperimentare possiamo sperimentare possiamo sperimentare anche tra diciamo in maniera insolitudine voglio dire il semplice fatto di pensare di ipotizzare il semplice fatto di sperimentare mentalmente si chiama proprio esperimento mentale cioè ragionare in maniera molto libera molto creativa come un sistema potrebbe potrebbe funzionare come un sistema potrebbe funzionare ecco una sperimentazione quindi non soltanto materiale nel senso diciamo scientifico del termine ma sperimentazione anche mentale come un'attività personale e poi un atteggiamento generale è quello di evitare di andare nel panico e quindi di avere degli atteggiamenti che possono essere frustranti e da cui dal punto di vista psicologico poi ci risulta difficile uscircene addirittura c'è chi ha dato una definizione una definizione di problema complesso quando un problema è complesso problema è complesso quando è opaco cioè manca di chiarezza una determinata situazione oppure un problema può essere può essere difficile quando gli obiettivi che noi ci poniamo sono tanti quindi politelia c'è scritto quindi gli obiettivi che noi ci poniamo sono tanti e tutti questi obiettivi ci rendono diciamo nel loro complesso il problema difficile da affrontare oppure il problema è complesso perché ha un gran numero di termini un gran numero di relazioni oppure richiede un numero elevato di decisioni da prendere oppure il problema è complesso perché intervengono degli aspetti diciamo dinamici quindi legati strettamente alla dimensione tempo che ci risulta difficile controllare la soluzione di un problema difficile richiede un attacco diretto ad ognuna di queste caratteristiche chiude così questa diapositiva allora possiamo avere almeno due approcci nella diciamo nella soluzione di problemi che sono parte integrante parte integrante del lavoro di progettazione di analisi dei sistemi e di progettazione che l'ecologo va a fare all'interno di un progetto come quello di cui stiamo parlando e abbiamo due approcci possibili diciamo un approccio semplice oppure un approccio diciamo da piano l'approccio semplice è porsi in serie tre domande che cosa sto cercando di ottenere cioè qual è il mio obiettivo qual è il problema reale è la seconda domanda a cui rispondere qual è la soluzione migliore è la terza domanda a cui rispondere e questo è l'approccio semplice oppure l'approccio da piano è questo si articola invece in sei passaggi successivi qual è il problema perché sta succedendo come posso risolverlo una volta che ho dato una risposta a queste tre domande a questo punto mi entro diciamo nel vivo nella parte creativa della questione e trovo le soluzioni risolvilo funziona o non funziona è la domanda successiva cioè le soluzioni che ho trovato funzionano o non funzionano sono adeguato o non adeguate e poi l'ultima domanda è adesso che cosa devo fare quindi abbiamo una sequenza di what why how why what che diciamo delle parole chiave che poi alla fine noi troviamo anche nei formulari utilizzati per introdurre le azioni le attività che riguardano un progetto life natura e biodiversità quindi avere diciamo un approccio da piano seguendo le tecniche del problem solving in realtà ci introduce naturalmente verso quella che è poi la parte finale del lavoro di progettazione che è di inserire le informazioni all'interno del form del form diciamo per per il completamento delle attività delle azioni per la presentazione delle attività delle azioni al al bando e in ciascuna di quelli degli step sia nell'approccio semplice che nell'approccio da piano in ciascuna di quegli step ri utilizziamo utilizziamo una serie di tecniche che sono appunto le tecniche del problem solving per ciascuna fase richiede la formulazione di un obiettivo e la selezione di informazioni e la organizzazione di queste informazioni le informazioni possono essere di varia natura possono essere dei fatti quindi diciamo delle conoscenze scientifiche ma anche altri tipi di conoscenze diciamo solide comprovate oppure possono essere semplicemente delle opinioni oppure possono essere delle ipotesi la maniera con cui andiamo a selezionare queste informazioni e i criteri con cui li mettiamo in relazione tra loro sono di diversi tipi i criteri appunto sono individuare delle limitazioni dei constraints cioè l'informazione non ci serve se non risponde a determinati requisiti oppure delle informazioni che non sono inerenti agli obiettivi che ci stiamo ponendo oppure i criteri sono delle domande specifiche che ci andiamo a porre e che richiediamo richiediamo diciamo al lavoro nella selezione e nell'assemblamento di queste informazioni diverse tecniche probabilmente quello che avete utilizzato voi nei giorni precedenti è l'elaborazione di un information map cioè avete inserito delle informazioni su dei post-it le avete in selezione quindi prima avete elaborato diciamo tutta una serie di informazioni suppongo è quasi una domanda che vi sto facendo e poi avete selezionato queste informazioni e dopodiché le avete messe in relazione tra loro ecco sostanzialmente quello che avete fatto è la realizzazione di information map cioè di mappe di informazione ma in realtà ci sono anche tante altre tecniche non ultima dal punto di vista della progettazione quella delle mappe d'azione questo è il caso di un information map andiamo avanti saltiamo tutto l'aspetto terminologico e questo è il caso di una mappa d'azione in cui le singole informazioni che a questo punto sono delle azioni previste dal piano quindi le singole informazioni vengono messe in relazione tra loro dal punto di vista della sequenzialità con cui devono essere devono essere introdotte nella progettazione e diventano così diciamo l'espletamento di quello che è il piano il progetto life e dalle mappe di azione una diretta conseguenza è quella dei diagrammi temporali perché nella fase di progettazione oltre ad individuare le singole azioni i singoli interventi oltre a metterli in relazione tra loro andiamo a definirne anche diciamo un ambito temporale in cui gli interventi devono iniziare e devono concludersi e ovviamente diciamo la sequenza di questi interventi deve essere funzionale a quelli che sono gli obiettivi e la pianificazione delle singole azioni ecco questo è un diagramma temporale che diventa una diretta conseguenza e una diretta conseguenza dell'elaborazione di una mappa d'azione e le tecniche di problem solving sono d'aiuto anche nell'elaborazione di modelli in particolare nell'elaborazione di modelli concettuali i modelli concettuali vengono elaborati diciamo con diversi scopi possono essere semplicemente dei modelli per illustrare qualcosa quindi hanno uno scopo puramente informativo però dal punto di vista del progettista l'elaborazione di un modello concettuale ha un significato molto più profondo non soltanto quello di andare a presentare qualcosa un'informazione ma è la fase di elaborazione del modello stesso che fa ricorso alle tecniche di problem solving come abbiamo detto è la fase di elaborazione del modello stesso che aiuta il progettista diciamo ad mettere in evidenza innanzitutto a scomporre il sistema ecologico ad individuare i punti chiave di un sistema ecologico individuare le criticità e quindi individuare quei punti su cui il progetto deve intervenire e quindi sui problemi di conservazione andiamo avanti salto diciamo la distinzione tra modelli di controllo e modelli legati alla definizione degli stress all'individuazione degli stress e quindi e ci addentriamo sulla terza siamo arrivati alla terza parte della nostra della nostra diciamo del nostro incontro che riguarda il caso di studio di Torreguaceto e alcuni aspetti applicativi io direi se è possibile fare cinque minuti di pausa per rinfrescarci un po' nel frattempo anzi prima di fare la pausa se avete domande inerenti diciamo su questa su queste prime due parti dell'incontro possiamo discuterne già da subito oppure rimandare tutta la discussione alla fine dell'incontro prego Sì avevo una domanda Nel sistema di costruzione quindi di identificazione dei vari problemi secondo la sua esperienza quale fra la lista quale fra quelli che ci ha illustrato risulta essere quello più più adatto o comunque che riesce in qualche modo a rappresentare a risolvere non a risolvere il problema a identificare i problemi più velocemente allora sono tutte tecniche diciamo tutte tecniche parimenti utili quindi non c'è una diciamo più opportuna di un'altra l'utilizzo di queste tecniche richiede diciamo in qualche in qualche maniera diciamo l'applicazione non si possono raccontare come così come sto facendo io però mi risulta che voi avete già applicato in questi giorni e quindi sicuramente poiché è richiesto un piano d'azione nel progetto Life e poiché è richiesto un diagramma temporale nel progetto Life sicuramente il piano d'azione e il diagramma temporale diventa bisogna produrli perché diventano parte costitutiva del progetto stesso le mappe di informazione invece sono un valido strumento per far chiarezza e per studiare di studio e di sviluppo del progetto ma anche diciamo le tecniche più semplici come quella di semplicemente di elencazione semplicemente di elencazione delle informazioni già quello può essere un primo passo per incominciare a ragionare diciamo quali sono tutte le informazioni da mettere in gioco da mettere in gioco nella fase di progettazione ok grazie se andiamo e cambiato canale porca vado nulla più un'annotazione nel senso che durante la nostra esercitazione poi possiamo rivederlo anche su le slide stampate noi abbiamo utilizzato il logical framework approach che è appunto la metodologia che a livello comunitario è più conosciuta e più applicata quindi abbiamo seguito questo metodo che è consistito con l'analisi dei valori da conservare le relative minacce l'individuazione poi delle strategie e quindi le azioni con cui noi implementiamo le strategie appunto e poi dopo di che abbiamo verificato abbiamo analizzato come queste azioni si andavano a realizzare attraverso le tante attività che le compongono e quindi distribuendoli conoscendo i costi e vedendo anche quando sarebbero dovute essere realizzate in che momento quindi abbiamo avuto questa infarinatura ottimo ottimo ok allora prendiamoci un 5-10 minuti di pausa e poi vediamo diciamo il caso del progetto Abicost grazie grazie